Questa settimana mettiamo in evidenza in modo particolare le persone. Il disastro ha provocato danni sul territorio, ha richiamato l'urgenza di intervenire per superare le emergenze, ma anche per mettere a posto il territorio in modo che non abbiano più a verificarsi questi danni. Ha naturalmente lasciato tracce, ha provocato disagi alle persone. Disagi che non sono soltanto storia, anche se storia recente, ma che sono ancora attuali. Ci sono ancora casi di reale difficoltà, di problematiche ancora aperte, di persone che soffrono ancora per queste situazioni. È giusto ricordarsene e anche metterle in evidenza, come naturalmente è giusto anche mettere in evidenza quanto si sta facendo per cercare di riparare. E a questo proposito, in questo numero, proponiamo anche un riassunto, per così dire, di quanto previsto dalla recente legge nazionale di bilancio, approvata entro la fine dell'anno, per quanto riguarda il maltempo, ma più in generale anche per la provincia di Belluno, riassumendo stanziamenti e disposizioni che sono state approvate, in modo da avere un po' di chiarezza su quello che è il panorama e su quelle che potranno essere anche le possibilità e le risorse su cui potrà contare la provincia di Belluno.